Molti cittadini ci chiamano perché la difficoltà economica comincia a pesare su molte famiglie e imprese, spiega il presidente del Codacons Cilento. La nostra associazione ogni giorno riceve richieste di aiuto, per questo rivolgo un appello ai sindaci chiedendo di tenere conto delle prerogative già attribuite dalla legge 147 del 2013 agli enti locali in materia di riduzione ed esenzione tariffarie e delle delibere a Rera. La situazione è allarmante, molti cittadini e imprese hanno difficoltà nel pagamento delle forniture di energia per la fornitura del servizio idrico. L'area parco, composta da piccoli paesi, sottolinea il presidente, sta soffrendo più di altri territori perché l'indotto turistico, principale fonte di rendito per molte imprese e famiglie, è fermo da molto tempo. Ristoranti, alberghi, agriturismi, a causa delle chiusure e dei vincoli legati alle misure di prevenzione sono in ginocchio e devono essere sostenuti. Inoltre alcuni sindaci, per far fronte ai servizi comunali, stanno valutando di aumentare i tributi e inviare cartelle di pagamento senza tener conto delle condizioni economiche in questo momento di famiglie e imprese. Per questo il Codacons ha attivato un indirizzo e-mail codaconscilentocomunivelini-gmail.com e il recapito telefonico 3457728260 dove i cittadini e imprese potranno segnalarci i loro problemi che noi provvederemo a segnalare alle autorità competenti trovando, se necessario, delle soluzioni stragiudiziali.